I finanziari del gruppo di Olbia e del comando provinciale di Sassera hanno eseguito di concerto con l'ispettorato territoriale del lavoro un'operazione di controllo e contrasto del lavoro nero e regolare che ha interessato i rinomati locali notturni della cittadina gallurese. Alla fine dell'ispezione sono stati scoperti 31 lavoratori nero. Due locali sono stati chiusi perché la percentuale dei lavoratori nero ha toccato il 100%. I militari hanno anche trovato due lavoratrici ucraine prive del permesso di soggiorno. In questo caso il titolare locale è stato denunciato alla procura della Repubblica di Tempio per violazione delle norme sull'immigrazione. Il blitz delle fiamme gialle ha riguardato quattro locali notturni di Olbia che sono stati ispezionati dai finanzieri e dagli ispettori dell'ufficio del lavoro che tra l'altro hanno ricevuto segnalazioni su alcune irregolarità attraverso il numero istituzionale 117. Nel corso dei controlli i militari hanno verificato la posizione lavorativa di 40 dipendenti. 31 tutte donne sono risultate totalmente in nero, prive di copertura assicurativa e senza un contratto di assunzione. Per due dipendenti sono state riscontrate violazioni relative all'orario di lavoro effettivamente svolto. Infine gli uomini dell'ispettorato provinciale del lavoro di Sassari hanno erogato sanzioni ai datori di lavoro per la violazione dello statuto dei lavoratori perché nei locali sono stati installati sistemi di videosorveglianza senza le relative autorizzazioni.